Che succederà a Luca con me, chi diventerai, a Luca con me, a tutti amici miei, tutti con me. Anche lei si è messa a tuo personaggio, ha dato i prosciutti, c'è un venturaggio, forse l'ha comprato, forse l'ha ordinato, in genere è uno scienziato. Si fa un gioco e mi fa sognare, perché l'importante è partecipare, ma se io non vinco, piango e mi cominco, che il concorso è truccato. Io ti scaziono, la mamma e quelli dentro scordano, guardo le tue facce a tutti i miei, e lo schiaffetto che ti aiuta, anche se io non glielo adoro. Che succederà a Luca con me, chi diventerai, a Luca con me, a Luca con me, che amici miei, tutti con me. Signore e signori, paolo!